Buonasera a tutti e con vivo piacere che iniziamo questa sessione del settimo festival della statistica che si tiene qui in presenza a Treviso dedicato a un tema molto importante che è il tema del futuro. La società italiana di statistica che mi onoro di presiedere da luglio scorso ha costituito un gruppo che si chiama FutureSys che è proprio dedicato allo studio del futuro. Perché studiare il futuro? Perché gli statistici si devono occupare di futuro? Ebbene sicuramente le previsioni sono uno degli aspetti importanti della nostra disciplina ma in un momento post pandemia poter parlare di futuro e costruire degli scenari e andare ad applicare quelle che sono le tecniche di Future Studies è diventato un strumento indispensabile per poter portare avanti, per capire quello che accade, analizzare la realtà e prendere delle decisioni in maniera più consapevole. Ed è proprio questo il tema di cui parliamo oggi in questo incontro. e presento il primo relatore di questa serata che è il professor Simone Di Zio. Il professor Simone Di Zio è professor di statistica sociale presso l'Università di Pescara ed è un esperto proprio sul tema di Future Studies perché lui fa parte anche del Millennium Project, ha una vastissima pubblicistica, ha pubblicato tantissimi lavori su questo tema e chiediamo a lui appunto il perché affrontare il tema del futuro e che cosa intendiamo con questi Future Studies e qual è il contributo che possono dare alla nostra produzione scientifica. Grazie, grazie Presidente, grazie ai presenti di essere intervenuti. Allora, io brevemente volevo dirvi due cose sulla nascita dei Future Studies come disciplina accademica. Non sono una cosa recente, già negli anni 60, vi dico solo alcuni nomi, Armand Kahn, che era colui che faceva gli scenari durante la Guerra Fredda, lavorava insieme a Dola Felmer, a Theodore Gordon e tra un po' magari lo riciteremo per un motivo particolare. Quindi era un momento in cui dopo la Seconda Guerra Mondiale c'era necessità di cambiamento e di ricostruire. Oggi noi parliamo nuovamente di piano nazionale di ripresa e resilienza e forse è un secondo momento storico dove c'è la necessità di parlare di questi temi. E forse dopo i grandi cambiamenti, quali possono essere una guerra o una pandemia, c'è necessità di guardare al futuro in maniera scientifica. E vi potrei citare altri nomi, in Francia poi Bertrande Juvenelli con la scuola dei Futuribles, dove di nuovo si pone l'accento sul plurale, i futuri al plurale. Quindi questi sono studi sui futuri, non sul futuro inteso come singolo. Perché il futuro sostanzialmente non si può prevedere. Allora perché gli scenari? Perché costruire scientificamente gli scenari significa poter prendere le decisioni giuste al momento attuale, nel presente. Quindi gli esperti di futuro dicono che gli scenari non hanno senso se non portano alle decisioni. E tanto per farvi capire che c'è di nuovo un grande fermento in queste tematiche, vi dico alcune cose. Due anni fa la Commissione europea per volontà della Fonterlein ha istituito per la prima volta nella storia una vicepresidenza agli studi sul futuro. Si chiama Strategic Foresight. Attualmente nella rete mondiale che ha citato il Presidente del Millennium Project stiamo sottoscrivendo una lettera nell'ambito delle Nazioni Unite probabilmente verrà istituita un Future Lab, un laboratorio di futuri. E quindi vi potrei citare l'UNESCO che da tantissimi anni sta lavorando sulla Future Literacy. Addirittura l'UNESCO non parla più di Future Studies. Questa cosa la danno per scontata ma addirittura stanno proponendo il discorso di inserire queste tematiche nelle scuole perché dobbiamo secondo loro e anche secondo me alfabetizzare i giovani ma tutti al futuro. Ripeto che non significa prevedere perché non possiamo prevedere quello che accadrà nei futuri a lungo termine tra 10, 20, 30 anni ma per prepararci dobbiamo immaginare, dobbiamo descrivere, dobbiamo delineare quali sono i futuri possibili e plausibili. Dal punto di vista accademico vi posso dire anche altre cose. Ci sono diverse riviste scientifiche che trattano esclusivamente questi temi. C'è la European Journal of Future Research, Futures, Technological Forecasting, Social Change. Sono riviste altamente impattate che trattano queste tematiche. Ci sono molte università nel mondo che stanno istituendo corsi di laurea e percorsi post laurea sui Future Studies. Mi viene in mente l'Università di Turco in Finlandia che ha tutti i corsi dalla triennale fino al PhD. Ma se volessimo rifare un balzo all'indietro velocemente, inizi anni 30, anni 40, noi abbiamo Bruno De Finetti che è il padre della probabilità soggettiva. Gran parte degli studi sul futuro, delle metodologie di ricerca sui futuri, più di stampo quantitativo si rifanno agli studi di De Finetti. Quindi il concetto è, noi abbiamo una nuova opportunità come statistici e come accademia, cioè vedere come possiamo contribuire a disegnare questi scenari futuri. E secondo me tutte le tecniche nuove come machine learning e intelligenza artificiale devono essere, devono secondo me interagire con quelle che sono le metodologie dei Future Studies. Faccio esempio ricorso alle opinioni di esperti, tanto per fare un piccolo esempio. Ecco, questo è un primo quadro. Poi mi dice il Presidente se... Grazie Simone, mi sembra un quadro estremamente promettente. Mi permetto di aggiungere che tra l'altra persona eminente che ha introdotto in Italia i Future Studies è Giorgio Nebbia, che è un accademico che purtroppo ci ha lasciato qualche anno fa, ma Giorgio Nebbia è la persona che tutti conoscete perché ha introdotto in Italia il concetto di ecosistema. Quindi persone che guardavano al futuro, che avevano delle visioni, che hanno avuto una idea e delle idee molto avveniristiche rispetto ai loro tempi. Quindi noi dobbiamo in qualche modo valorizzare quella che è la tradizione della scuola italiana di statistica, portandoci avanti, rafforzando queste tecniche, sfruttando anche tutta una serie di strumenti che noi oggi abbiamo. In particolare, questo approccio basato sui testimoni privilegiati affronta anche un altro tema. Noi oggi abbiamo sentito parlare spesso di qualità del dato, siamo nel Festival della Statistica, siamo in questo evento che è organizzato fra la SIS e l'ISTAT, quindi il tema della qualità del dato, il tema dell'affidabilità del dato è sicuramente un tema centrale, ma c'è anche un altro tema che spesso il mondo, la domanda di dati, ci chiede di poter disporre di dati in maniera tempestiva. Quindi un altro dei vantaggi delle tecniche di cui stiamo parlando è che si riescono ad avere dati con una maggiore celerità e in condizioni, vedi il caso della pandemia, in cui in realtà non hai un universo di riferimento, dati storici a cui poter fare riferimento. Quindi si tratta di sfruttare le esperienze degli esperti che vanno selezionati con grata attenzione per costruire scenari futuri e da questo punto di vista un esperto che oggi abbiamo il piacere di avere qui è proprio Donato Speroni, che oltre che essere un giornalista e scrittore molto molto noto, ha dedicato tantissimo tempo all'ASVIS e quindi lui crede tantissimo nel tema dello sviluppo sostenibile. Oggi l'ASVIS è stata protagonista in molti momenti di questo nostro festival, ma lo sarà anche nei prossimi giorni. Abbiamo avuto l'onore e il piacere di avere con noi, anche se solo virtualmente, il Ministro Giovannini, a cui va testimoniato il ringraziamento, perché è stato lui a volere per la prima volta nel 2015 il Festival della Statistica e io sono qui a testimoniarlo, visto che anche in quell'occasione avevamo organizzato con la SIS il nostro convegno nazionale. E tornando al tema dell'ASVIS, io chiederei a Donato Speroni di dire un po' qual è la sua visione di futuro e come questo futuro può aiutarci a mantenere quell'impronta di sostenibilità di cui noi oggi parliamo tanto, perché nell'incontro che ci ha immediatamente preceduto si parlava degli sforzi e della posizione dell'Europa rispetto a questo tema. Io devo dire che oggi la politica ha capito la lezione, ha capito che il sistema attuale non è più sostenibile, presenta tante debolezze. Mi chiedo, e il test fatto con Furio Camillo qualche ora fa in piazza intervistando i giovani, ma poi la gente ha capito che siamo a un momento di svolta, cioè anche l'opinione pubblica è convinta di questa percezione che siamo arrivati all'ultimo miglio oltre il quale o cambiamo direzione oppure rischiamo di avere un impatto frontale che lascerà i segni. Ieri abbiamo fatto un piccolo, e con questo concludo questa mia presentazione, ma scusate il tema mi appassiona troppo. Ieri c'è stato un intervento bellissimo di un collega che si poneva una domanda inquina di più una vacca o un'auto. Allora, anche questi confronti dal punto di vista quantitativo sono strumenti indispensabili per far capire al pubblico tu ora stai andando a Milano ma ti sei posto il problema di quanto CO2 stai consumando. Ma sai, capire il concetto di cosa significa il consumo di CO2 e ti danno i termini in peso, la gente comune non lo capisce. È importante invece fare proprio dei confronti, dire ok, la CO2 che stai consumando è pari a... Ma io so che in questo hai dedicato tanti libri e tanti articoli per cui non sottraggo altro tempo. Prego. Grazie Presidente. Innanzitutto rispondo alla tua ultima domanda. La gente si rende conto della situazione in cui siamo. Io penso che ci sia una generale percezione del pericolo, cioè la gente comincia a capire la gravità del cambiamento climatico. È più difficile dire se però le persone sono disposte a accettare i cambiamenti nei comportamenti individuali e anche, diciamo, nelle scelte politiche che poi impattano sui consumi, sul reddito anche, che possono derivare da politiche sostenibili. E questo per rispondere all'accendo che tu avevi fatto. Visto che siamo al Festival della Statistica, immagino che tutti sappiano cos'è l'ASVIS. Ridico solo in due parole. L'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile è stata creata da Enrico Giovannini per mettere insieme tutti i soggetti in Italia impegnati nella realizzazione dell'Agenda 2030, cioè degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU. È nata nel 2016. Attualmente abbiamo più di 300 soggetti che vanno da CGL, CISLE, UIL alla Confindustria, da Save the Children al WWF. Mi scuso per tutti gli altri che non cito. Io dall'inizio ho seguito Giovannini in questa esperienza come responsabile della redazione fino alla fine dell'anno scorso, perché poi per ragioni anagrafiche ho lasciato questo compito a dei giovani molto bravi e sono diventato senior expert, che è un po' come dire papà emerito. Però seguo un progetto particolare che mi appassiona molto, che è il progetto Futuranetwork.eu. Se andate a vedere questo sito nasce da una domanda che ci siamo posti con Giovannini. Noi lavoriamo molto sull'Agenda 2030, però comincia a essere molto importante ragionare sul futuro oltre il 2030. E quindi abbiamo messo insieme un gruppo di studiosi di futuro e una redazione anche che dà dei contributi giornalistici per riuscire a porre degli interrogativi e a stimolare il dibattito sulle scelte che vanno oltre il 2030. Allora, che cosa sappiamo? Qui parliamo di statistica, quindi quali sono i dati, le cose che sappiamo che ci consentono un po' di delineare il futuro? Come giustamente diceva Simone, non c'è un solo scenario, però ci sono dei punti di riferimento entro i quali possiamo costruire diversi scenari. Allora, innanzitutto il dato demografico. Cioè noi oggi sappiamo che l'umanità è composta da 7, 8, 7, 9 miliardi di persone che saranno più di 9 miliardi nel 2050, che poi man mano la popolazione tenderà a appiattirsi, perché diciamo l'Africa Unitaria diminuisce, quindi fra i 10 e gli 11 miliardi, con una grossa incognita che è l'Africa, dove il modello culturale è ancora un modello di fare molti figli, magari, dico una cosa terribile, per mandarne uno allo sbaraglio, perché se arrivi in Europa questo attraverso le rimesse cambia poi le condizioni di vita della famiglia. E comunque, diciamo, il problema è che noi dobbiamo garantire un reddito adeguato, che nessuno resti indietro, come si dice nell'agenda 2030, per una popolazione che arriva appunto a 9, 10 miliardi. Il problema è che noi non abbiamo un modello di sostenibilità per questo. Cioè, già oggi un calcolo che si chiama l'Earth Overshoot Day ci dice che consumiamo ogni anno una volta e mezzo le risorse del pianeta, le risorse che il pianeta produce in quell'anno. In Italia consumiamo due volte e mezzo, negli Stati Uniti cinque volte, altri paesi meno, però fondamentalmente diciamo stiamo già in Overshoot, cioè consumiamo troppo. Se immaginiamo, come fa la Banca Mondiale, che fra vent'anni la popolazione di classe media, cioè quella che guadagna fra i 10 e i 100 dollari al giorno, cioè fra i 250 e i 2500 euro al mese, perché in certi paesi anche con 250 euro si può vivere, e oggi questa popolazione di classe media è composta da circa un miliardo e otto di persone. Fra vent'anni sarà composta da tre miliardi di persone in più, 4,8 miliardi. Questo significa che ci saranno altri tre miliardi di persone che vorranno avere i consumi nostri, il frigorifero, la macchina, i consumi di carne. In Cina vent'anni fa si consumavano cinque chili di carne di maiale pro capite a persona, all'anno. Adesso se ne consumano cinquanta. Ora capite che questo cambia tutto nel quadro, quindi il problema di costruire un sistema, un meccanismo di sostenibilità complessivo è un problema ancora irrisolto. Poi abbiamo gli aspetti climatici. Allora sappiamo che già adesso rispetto all'epoca preindustriale abbiamo avuto un aumento di temperatura di un grado virgola uno. L'obiettivo di Parigi è uno e cinque, massimo due. Per questo ci sono tutti questi impegni, queste conferenze, fino a quella di Glasgow, che ci sarà in novembre. Però sappiamo che sostanzialmente stiamo lavorando per la seconda metà del secolo. Cioè che comunque l'accumulo di anidride carbonica continuerà, la temperatura continuerà ad aumentare. E anche se l'aumento fosse contenuto in due gradi, due gradi sono tanti. e una stima della Banca Mondiale che è uscita pochi giorni fa diceva che comunque ci saranno almeno 200 milioni di migranti climatici che si sposteranno dalle loro terre che diventano insostenibili entro il 2050. Quindi quando noi parliamo di migrazioni e ci rimpaliamo, se accogliono, non accogliono gli afghani, quante persone ci arrivano con i barconi e così via, dobbiamo avere chiaro il quadro che in prospettiva il problema è un problema che riguarda centinaia e centinaia di milioni di persone che in qualche modo dobbiamo risolvere, affrontare con una visione complessiva. Vado avanti velocemente, ci sono i problemi delle disuguaglianze che non stanno diminuendo, anzi stanno aumentando e a questo punto diciamo il problema che in questa sede dobbiamo porci è anche quello della strumentazione. Cioè come misuriamo quali sono gli strumenti di misura statistica che ci servono per valutare il progresso o il mancato progresso. Sapete che fino adesso lo strumento principale era il PIL, il prodotto interno lordo, però c'è ormai da tanti anni una fioritura di studi per andare beyond GDP, cioè per andare oltre il PIL e per trovare altre misure. Direi che però in questi anni è sfumato il sogno di trovare un unico indicatore alternativo al PIL. È troppo complicato. per cui abbiamo delle batterie di indicatori come il BES, il benessere equo e sostenibile in Italia che è fatto di oltre 130 indicatori, come gli indicatori SDGs, cioè gli indicatori dell'agenda 2030 dell'ONU che sono oltre 200. E c'è anche un problema anche in Italia di come contemperare questi due tipi di indicatori, come metterli insieme che non è pienamente risolto anche in sede Istat. e comunque diciamo il problema è quindi come questi dati, come migliorare questi indicatori. Si parla anche di indicatori di felicità, però la misura della felicità è praticamente impossibile perché il modo in cui viene percepito la happiness nei diversi popoli è diverso. Quindi possiamo fare dei calcoli storici, cioè se lo stesso popolo, la stessa popolazione migliora o peggiora la sua percezione di soddisfazione individuale, ma non possiamo fare dei confronti geografici che siano accettabili. Il famoso indice di felicità del Bhutan si basa su una serie di domande fra cui quante ore dedichi ogni giorno alla meditazione? È tipica di una cultura buddista, ma che per ora non può funzionare da noi. Allora, la grande domanda è va bene, stiamo affinando degli indicatori alternativi, ma questi indicatori vengono effettivamente utilizzati dai media oppure sono troppo complicati per cui alla fine si va a guardare soltanto il PIL, il tasso di occupazione e poche altre cose. E come riusciamo a portare anche i politici a guardare tutti questi altri aspetti e non soltanto gli aspetti strettamente economici e di reddito? Quindi, diciamo questi, e così concludo, sono secondo me gli aspetti più importanti, cioè riuscire a spostare l'attenzione politica su una serie di indicatori anche di tipo nuovo che sono veramente importanti per capire quello che sta succedendo, costruire una modellistica che non sia solo una modellistica economica ma anche sociale e di proiezione per il futuro. non so se Giovannini ne ha parlato stamattina nell'intervista ma noi ci battiamo da tempo per un istituto pubblico di previsione strategica, un istituto per il futuro e credo che lui la stia spuntando, cioè che a questo punto nell'ambito del comitato interministeriale per la tradizione ecologica gli sia stato anche affidato l'incarico di cominciare a costruire questo istituto pubblico e questo sarebbe un grande passo avanti. Ed è una cosa che tantissimi stati hanno già fatto e stanno facendo, l'ultima la Grecia quindi significa qualcosa certo. Mentre nell'ultimo documento di previsione strategica europea è annunciata la creazione di una rete di ministri per il futuro per portare poi l'attenzione al futuro anche all'interno di tutti i 27. E noi come società scientifiche abbiamo l'obbligo di farci trovare pronti per raccogliere questo guanto di sfida fornendo quegli strumenti metodologici che possono essere utili per vincere questa scommessa che come tu hai detto è una scommessa importante non possiamo permetterci il lusso di farci trovare impreparati. Da questo punto di vista però devo dire che anche andando a vedere l'ultimo rapporto pubblicato il 9 agosto dall'Istat sugli SDGs possiamo dire che sono stati fatti dei salti in avanti importanti ma anche nel DEF vediamo che finalmente questi strumenti questi indicatori vengono poi declinati viene trovata una si cerca anche di trovare quella che è la corrispondenza fra le mission poste all'interno del PNRR con i pilastri degli SDGs ormai si cerca di misurare l'impatto delle politiche e Giovannini in un incontro che abbiamo avuto in occasione della giornata mondiale della statistica ha fortemente insistito sul tema della misurazione delle politiche pubbliche e mi sembra che ormai grazie anche agli input che ci vengono dall'Europa l'Italia si stia preparando per questo tipo per affrontare questo tipo di problemi ma proprio perché noi vogliamo anticipare il futuro e guardare al mondo che verrà poniamo una domanda a un'esperta di questo settore abbiamo qui Valentina Adorno che fra le tante cose lavora per il progetto Coming World e si occupa di modelli che appunto cercano di misurare dei sistemi psicometrici che in qualche modo riescono a misurare quelli che sono i comportamenti delle persone per cui gli poniamo una domanda secca ma qual è il futuro che verrà cosa ci dobbiamo aspettare i vostri esperimenti fatti durante la pandemia hanno messo in evidenza alcune importantissime scusate hanno messo in evidenza alcune importantissime cambiamenti che voi avete registrato con grande tempestività raccontaci un po' che cosa ci dobbiamo aspettare allora grazie intanto per la bella domanda che mi hai posto grazie per avermi invitato e un ringraziamento a chi ci sta ascoltando e ai presenti Coming World Project è l'osservatorio del mondo che verrà e quindi ha proprio la presunzione di voler anticipare e prevedere il futuro noi ci stiamo provando è nato è un progetto di ricerca che è nato da un'azienda che si chiama Glaxi su cui io lavoro come ricercatrice appunto che è un'azienda più grande che si occupa di fornire ricerche di mercato e unire il mondo delle ricerche di mercato con il mondo delle aziende delle istituzioni per utilizzare i dati delle ricerche di mercato i risultati delle ricerche devono essere resi fruibili nei database aziendali e delle istituzioni pubbliche per prendere delle decisioni una costola di Glaxi è appunto quella della ricerca durante il periodo di lockdown proprio quello di marzo del 2020 quando ci siamo ritrovati chiusi nelle case io sono uno statistico di formazione ci è venuto come naturalmente uno statistico di performamentis quello di cercare di capire qual era il mondo che ci avevamo un sacco di incertesse quindi ci è venuto naturale chiederci come sarà il nuovo mondo ed è nato questo appunto questo osservatorio che in diverse ondate di ricerca ha sottoposto si è occupato di tematiche differenti relative al futuro in che modo? con un approccio rigoroso scientifico statistico e multidisciplinare perché abbiamo messo insieme diverse conoscenze dietro c'è uno staff una supervisione di Furio Camillo professore di statistica economica dell'Università di Bologna delle aziende private che hanno finanziato questo progetto e cercando di indagare diverse diverse questioni sul futuro e l'ultima come l'abbiamo indagate? Abbiamo fatto delle ricerche abbiamo delle non chiamiamoli non voglio assolutamente chiamarli sondaggi perché sono delle ricerche fatte su un panel di italiani quindi con tutta la valenza scientifica poi della rappresentatività di queste informazioni perché lo scopo è cercare di prevedere scenari futuri su larga scala dico io cioè quindi questi bellissimi studi di scenari futuri spesso qualitativi abbiamo cercato di rendere invece di renderli quantitativi cercare di misurare concetti e tematiche molto complesse su larga scala sugli italiani con un approccio anche psicometrico perché il panel degli italiani che utilizziamo è un panel che viene molto composto da circa 10.000 persone quindi molto ampio ed è ampiamente qualificato qualificato anche per tutte quelle variabili psicometriche cioè che cosa intendo il profilo valoriale i principi che le persone seguono a cui sono devoti e che arricchiscono molto di più molto più dico io delle variabili sociodemografiche che sono assolutamente importanti abbiamo visto che lo sono cioè sono caratterizzanti ancora adesso ma lo sono tanto anche non i comportamenti ci stiamo spesso troppo soffermando sui comportamenti ma i comportamenti sono le manifestazioni di quello che noi siamo quindi il panel è profilato molto bene sappiamo tantissime cose un panel permanente quindi con un tasso di riciclo molto basso che ci permette di fare delle ricerche di qualità mi permetto di dirlo nell'ultima wave quella del 2021 abbiamo presentato a fine luglio ci siamo concentrati sulle due grosse macro tematiche del momento la transizione digitale e la transizione ecologica come abbiamo affrontato questi due temi partiamo dalla transizione ecologica ci siamo affidati agli esperti perché l'approccio deve essere multidisciplinare gli esperti in questo caso sono stati gli attivisti di Fridays for Future perché abbiamo chiesto a loro quale sarà il mondo futuro quale sarà il mondo ideale dove la salvaguardia dell'ambiente diventa in principio cardine per tutta la società e i ragazzi ci hanno ci hanno aiutato a costruire degli item da sottoporre quindi abbiamo costruito il questionario di ricerca e come l'abbiamo fatto abbiamo individuato diversi concetti legati alla salvaguardia dell'ambiente quindi delle domande sulla mobilità quindi ad esempio dovranno sparire in centro si potrà girare solo con la bicicletta le macchine dovremo non utilizzare ci dovranno essere meno macchine quindi abbiamo costruito tutta una serie di batterie di domande di item sottoposti agli italiani in che modo che sacrifici saresti disposto a fare a sostenere per un mondo che abbia come obiettivo primario la salvaguardia dell'ambiente che detto così vi garantisco che gli item che abbiamo sottoposti sono anche un po' angoscianti nel senso cioè difficili veramente sacrifici grossi tipo che alle 10 di sera si spegne la luce perché dobbiamo risparmiare l'elettricità e a un certo punto abbiamo un limite sui giga che possiamo utilizzare col telefono quindi una serie di sacrifici ci abbiamo ragionato su questa cosa perché sottoporre i sacrifici non dire invece ah vogliamo un mondo più perché se tu chiedi e questo ritorno al rigore scientifico che ci deve essere in un questionario quando si fa una ricerca la domanda se io chiedo se è disposto a tutti rispondere in maniera positiva sì quando mi viene invece sottomessa la domanda dal punto di vista negativo quali sacrifici sei disposto allora è molto diversa la risposta e abbiamo costruito con questa combinazione addirittura i ragazzi hanno inventato questo concetto della patente ambientale cioè saresti disposto a essere obbligato ad avere la patente ambientale quindi anche una sorta di devi essere consapevole e informato sul temi della salvaguardia dell'ambiente un insieme erano più di 20 item la combinazione ha abbiamo costruito un indicatore sintetico perché questo è il ruolo poi che deve avere la statistica essere in grado di prendere delle informazioni e dei fenomeni complessi e essere in grado di sintetizzarli con degli indicatori con dei numeri renderli in maniera misurabili e abbiamo costruito quello che abbiamo chiamato l'ambientalometro e da questo da questo studio viene fuori che gli ambassador chiamiamoli così cioè quelli che sono veramente devoti a questo concetto di ambientalismo sono all'incirca un 16% poi abbiamo tutte le informazioni avendo un panel così profilato possiamo anche conoscere e descrivere chi sono cioè gli identikit di questo di coloro che aderiscono a questo concetto non sto dilungarmi tanto sui risultati perché non è lo scopo di questa cosa però se volete andate sul sito di coming world e scriveteci ci sono le informazioni e i risultati di queste andate di ricerca l'altro macro tema era quello ad esempio della transizione digitale anche qui con un approccio multidisciplinare abbiamo coinvolto una psicologa e abbiamo costruito un questionario di ricerca per misurare quello che abbiamo chiamato il digitalometro e quindi chi sono i digitalisti abbiamo utilizzato una teoria che è la teoria del comportamento pianificato che ci dice che i comportamenti dipendono dalle nostre intenzioni comportamentali che a loro volta dipendono dagli atteggiamenti dalle norme dal controllo cosa vuol dire dal punto di vista metodologico lo provo a spiegarlo anche per i non tecnici costruire un modello che si chiama un modello strutturale per variabili latenti cioè si cercano di costruire dei costrutti intangibili attraverso delle domande di un questionario che invece sono misurabili sono osservabili le cosiddette variabili manifeste e quindi si costruiscono appunto abbiamo cercato di stimare di misurare il comportamento l'attitudine alla digitalizzazione e anche qui abbiamo misurato gli ambassador della digitalizzazione i digitalisti sono all'incirca anche qui un 20% quelli che sono diciamo i più attivisti da questo punto di vista e attenzione perché poi ci è venuto naturale misurare la correlazione fra i digitalisti e gli ambientalisti e purtroppo è uno 0,6 cioè ci aspettavamo qualcuno magari si aspettava qualcosa di più che la digitalizzazione stiamo parlando di transizione digitale e transizione ecologica ma vanno di pari passo eh no non sempre cioè non è detto che chi è improntato alla digitalizzazione lo sia allo stesso tempo improntato all'ecologia diciamo all'ambientalismo questo è un esempio di come si possono misurare scenari futuri e questo credo che credo che sia fondamentale e noi abbiamo la presunzione di farlo dico anche che è necessario e la statistica deve deve fare deve avere questi come obiettivi perché ci deve essere un rigore scientifico e un approccio che però deve essere multidisciplinare cosa intendo dire cioè non deve essere il sondaggio sei ambientalista non sei ambientalista userai la bicicletta non userai la bicicletta quando si fanno queste stime di scenari futuri infatti in una delle vostre rilevazioni uno dei risultati che ho letto del vostro rapporto che mi ha colpito particolarmente che per esempio dopo il periodo di pandemia cambiano i rapporti interpersonali ovvero gli amici del momento pre-covid non è detto che siano gli stessi dacci qualche indicazione anche su questi aspetti molto interessanti che riguardano anche proprio la vita sociale come è cambiato il nostro mondo il nostro modo di pensare anche le reti di relazioni sono cambiate io oggi ho coordinato un gruppo di colleghi c'è una forte resistenza al tornare al passato perché c'è da un lato una gran voglia di rincontrarsi di fare le riunioni in presenza però si è sperimentato come col covid molte riunioni che prevedevano le vatacce all'alba tutte le difficoltà dei mezzi pubblici si possono fare anche con queste modalità online e penso che anche il festival a cui noi oggi stiamo partecipando sia una forte testimonianza di come io mi aspetto una forte integrazione fra questi sistemi però voi che li avete studiato in maniera molto più approfondita avete sicuramente dei risultati interessanti da raccontarci abbiamo provato a indagare anche questi aspetti sociali quindi sulle relazioni sociali e rispetto alle prime rilevazioni che abbiamo fatto nei momenti di lockdown di piena incertezza dove c'era diciamo un pessimismo un pochino più avanzato adesso siamo in una fase sicuramente sicuramente le condizioni di contorno rendono il clima di fiducia migliorato e quindi abbiamo misurato come le relazioni sociali stanno piano piano riprendendo e quindi c'è un ottimismo e un'apertura più generalizzata però c'è anche da dire che non è tanto importante misurare in media quale è l'atteggiamento futuro bisogna sempre tenere in considerazione le varie sfaccettature cioè mi spiego meglio anche dell'ambientalometro del digitalometro che abbiamo misurato e abbiamo cercato di sintetizzare in un unico indicatore in realtà le sfaccettature sono tante quindi c'è il gruppo di persone che ti dice dall'esperienza della pandemia ho capito che posso lavorare smart working e voglio lavorare smart working dall'altra parte c'è chi dice non vedo l'ora di tornare in ufficio e queste sfaccettature questi cluster naturali di persone che vengono fuori la variabilità è importante non si deve sempre solo tenere in considerazione la mente stai dicendo che dobbiamo seguire un approccio basato sulla complessità e su questo tema noi abbiamo costruito un evento che andrà in onda domenica sempre all'interno di questo festival in cui appunto ci siamo detti come lo studio del benessere che è un fenomeno complesso perché riguarda tante dimensioni non può essere fatto se non tenendo conto della complessità e tu ci stai dando un'ottima testimonianza di quanto non si possa tutto riunificare all'interno di una media ma bisogna tener conto appunto delle varie differenze tra l'altro in un evento a cui ho partecipato martedì a Bologna in onore di Paolo Fortunati c'è stata proprio un l'apoteosi di questa di questo tema ovvero come tener conto della diversità e della complessità siamo arrivati quindi all'ultimo intervento che è quello di Giovanni Mori Giovanni Mori è un ingegnere ambientale ma è un collabora con è giovanissimo ha una bellissima esperienza all'interno di Friday for Future e lui lavora anche con le università svizzere ma soprattutto è un consulente delle aziende e quindi è interessante vedere come le aziende sentono ormai l'esigenza di misurare quella che è la sostenibilità ambientale la sostenibilità delle variazioni per cui Giovanni io ho avuto modo di seguirti in diversi eventi intanto ti ringrazio per la disponibilità ma quello che mi ha colpito è il fatto che oltre che essere un grande appassionato dei temi che tratti sei anche un profondo conoscitore e quello che mi piace del vostro movimento è il fatto che voi argomentiate le vostre posizioni basandovi sui dati ma soprattutto studiando i fenomeni quindi io penso che questo aspetto sia un aspetto estremamente interessante raccontaci un po' della tua esperienza ok grazie grazie mille intanto facciamo subito facciamo una domanda mettiamo un sondaggio qualcuno qua si ritiene per l'altrata di mano il sondaggio penso più primitivo della storia mi perdonerete sono un povero ingegnere quindi per l'altrata di mano qualcuno è appassionato di ambiente si ritiene appassionato di ambiente molto pochi perfetto domanda successiva tanti invece sembrava che fossero tanti ah no non lo so eh vedi tanti e pochi quanto è tanti e pochi bellissimo il prossimo convegno sarà su tanti e pochi seconda domanda qualcuno abita sul pianeta terra un po' più gente meraviglia ok questa cosa è che qualcuno abita sul pianeta terra è abbastanza comoda per fare l'esempio successivo perché se abitate sul pianeta terra dovreste far parte di fridays for future ehm oggi è venerdì è fridays for future tra l'altro dovrei essere in piazza Brescia in questo momento ma sono in piazza qua quindi ho portato giustamente il mio cartello il primo cartello con cui ero sceso in piazza era questo che era save the beers from climate crisis perché la birra è estremamente a rischio perché colpa il cambiamento climatico questa cosa qua dovrebbe farci capire che mh cioè insomma se adesso andiamo al bar e diciamo quante persone stanno bevendo un aperol a Brescia lo chiamiamo Pirlo qua lo chiamiamo Spris ovviamente io sono mezzo sangue veneto ma quanti sono consapevoli che quelli che stanno bevendo quello che stanno mangiando è estremamente a rischio e nel giro di qualche anno rischia di non esserci più per colpa della crisi climatico mi fa abbastanza sorridere nel senso assolutamente positivo quando ci dicono ah ho visto che sei ambientalista ho visto che ti appassiona l'ambiente questa cosa qua cioè sì mi appassiona l'ambiente perché abito sul pianeta Terra e non è carino abitare su un pianeta invivibile un pianeta invivibile vuol dire che il 70% del pianeta Terra rischia di essere invivibile nel giro di 50 anni nel 2070 per la cronaca il 2050 a cui dovremmo essere missioni zero il 2050 qualcuno di voi si ricorda Notti Magiche il 1990 ok il 2050 è più vicino a noi del 1990 ok il 2050 è più vicino il 2030 entro il quale dovremmo aver fatto meno 55% dell'emissione a livello mondiale è più vicino del 2010 qualcuno di voi si ricorda Waka Waka e Shakira e i mondiali di Sudafrica ecco il 2030 è più vicino del 2010 è questa cosa bellissima perché insomma la gente oggi è qua serena dopo andremo a bere uno spritz e siamo qua in piazza ecco se la gente avesse contezza seria di quanto è seria la crisi climatica ci sarebbe il panico che non è comodo poi perché è un casino da trattare il panico però ecco questo è il tema cioè sono molto contento che anche per lavoro anche come professione io mi occupo di questa cosa qua perché non potrei letteralmente far diversamente ma ti dico per tutti quelli della mia generazione io sono del 93 ma tantissimi ragazzi e ragazze di Fridays for Future sono estremamente più giovani tantissimi sono del 2000 non esiste una distinzione vado oltre la parola sostenibilità non la usiamo cioè la parola sostenibilità io lo so che devo usare la lato business ma non è una parola che nella vita di tutti i giorni uso non ha senso cioè cosa vuol dire sostenibilità qual è la definizione di sviluppo sostenibile dopo chiediamo a Donato Speroni la definizione del rapporto Brundtland in maniera così parola per parola ma la parola sostenibilità non esiste perché è necessariamente connaturata insomma Giovanni ci dice che è economica sociale e ambientale è ovvio cioè nel senso se tu lo dici a me ma ribadisco in questo senso penso di essere in parte rappresentativo è talmente scontato che non c'è da chiarire questo aspetto per esempio venerdì prossimo non so quanti di voi ne siano a conoscenza c'è il prossimo sciopero globale per il clima siamo scesi in piazza abbiamo iniziato a scendere in piazza da due anni a questa due anni e mezzo a questa parte tre anni ha cominciato tre anni fa ha cominciato con l'età Thunberg non perché siamo ambientalisti io personalmente non mi ritengo ambientalista mi piace sopravvivere forse anche a qualcuno di voi questa è l'unica è l'unica cosa cioè l'alternativa quando ci dicono ma la transizione ecologica costa tanto certo sono domande che i soffisti direbbero fallaci cioè qual è la domanda che bisogna porci la domanda è non è quanto costa agire quanto ci costa non agire qua si aprono una marea di domande bisogna crescere c'è l'obiettivo numero 8 degli SDGs gli obiettivi di sviluppo sostenibile che mette insieme lavoro equo lavoro non lavoro equo ma lavoro ben pagato lavoro correttamente retribuito e crescita economica ok decente e decent work ok grazie mille dottor Speroni in diretta l'ASVIS bellissimo meraviglia ma averlo in casa è comodo avere l'ASVIS quando serve un dubbio come fanno a stare nella stessa frase decent work economic growth qualcuno se l'è chiesto abbiamo appena avuto una lecture da questo punto di vista come ci dicono bisogna andare bisogna crescere andare a crescere come se noi è connaturato dentro di noi io ho 28 anni ho smesso di crescere molti anni fa perché i miei genitori mi hanno cresciuto a limiti della crescita siamo tutti bassi nella mia famiglia questo intendiamo noi a casa come limiti della crescita siamo cresciuti poco cosa vuol dire tu cresci diventi 18 anni cresci in altezza fino a un certo punto e a un certo punto per fortuna smetti di crescere perché se non è un casino devi cambiare la giacca dopo due anni se tu cresci vai oltre i due metri e cinquanta non passi più sotto la porta se cresci oltre i tre metri non entri più nell'automobile devi cambiare le scarpe perché prendi il 45 di numero poi il 50 il 60 sarebbe assurdo pensare di arrivare a una crescita infinita che non si ferma per fortuna tutti i sistemi naturali raggiungono un equilibrio a un certo punto e lì si accordano che ok adesso sto bene ho cibo ho energia elettrica adesso penso come si può dire la cosiddetta qualità della vita non sappiamo come misurare ecco questa cosa è uno di quei tabù che non si può dire crescita infinita cosa vuol dire? lavorare quante ore per fare che cosa? cioè la crisi climatica non è la causa ovviamente lo sappiamo tutti la crisi climatica è un sintomo di che cosa? di un mondo clamorosamente inefficiente bisogna capire come misurarla questa inefficienza ma questo è ci spostiamo in maniera inefficiente i nostri vestiti sono fatti in maniera inefficiente la nostra energia è prodotta in maniera inefficiente mangiamo in maniera incredibilmente poco efficiente come se non bastasse questa cosa per 30 anni e 40 anni è stata negata perché c'è chi? vediamo se c'è tra 4 gli sponsor no? non c'è tra 4 gli sponsor se no grandi aziende del gas fossile del combustibile fossile hanno negato per 30-40 anni questa realtà il fatto che il combustibile è partito due giorni fa l'interrogazione del Parlamento statunitense a chiedere così come le grandi aziende del tabacco negavano i danni anche quelle dei combustibili fossili ecco siamo in ritardo di 40 anni e quest'urgenza letteralmente non si vede quest'urgenza di agire la gente non sa che siamo sull'orro del baratro e allo stesso tempo è molto importante essenziale forse capire che l'alternativa non è il bagno di sangue che ci descrivono io capisco l'esigenza statistica di non dire i sacrifici ma è quello che ci aspetta se noi agiamo è letteralmente il mondo migliore che possiamo costruire cioè gli SDGs io conosco molto bene Project Drawdown che vi consiglio di andare a vedere sono letteralmente le 100 soluzioni più efficaci per risolvere la crisi climatica tra le soluzioni più efficaci in termini di gigatonnellate di CO2 equivalente ok c'è dare diritti pensate un po' ruolo i tamburi perfino alle donne colpo di scena dare diritti fondamentali tutto il mondo alle donne garantisce la riduzione delle emissioni maggiore che abbiamo mai avuto perché avere nel 2050 9 miliardi di persone o 10 miliardi di persone magari quel miliardo di persone in più vuole anche mangiare non so queste cose qua pazzesco e produrre oppure orientarsi su una dieta principalmente vegetale noi sprechiamo circa un terzo del cibo che viene prodotto quasi l'80% del cibo che produciamo lo diamo a degli animali che poi noi mangiamo con un'efficienza di trasformazione qua parlo da ingegnere del 10% gli automobili che noi usiamo per spostarci hanno un'efficienza del 20% sono letteralmente stufe su quattro ruote a un certo punto nella storia abbiamo pensato che fare esplodere delle cose fosse la maniera più efficace per spostare delle persone pesano 1300 kg per spostare me che ne peso 65 67 ormai però questo è cioè guardandolo da fuori viviamo in un mondo clamorosamente assurdo e noi non dobbiamo risolvere la crisi climatica per questo motivo noi chiediamo di agire molto rapidamente per tutta una marea di motivi risolvendo quelle storture risolviamo automaticamente la crisi climatica e viviamo nelle città più a misura di persone che possiamo immaginare quanto è bella una piazza dove si possono fermare le persone e senza il casino delle macchine che passano noi diamo per scontato che nelle città ci sia casino dove ci sono le macchine ma non è scontato per niente è ovvio che nelle città nei prossimi 10 anni non ci dovranno più essere dei mezzi perché è la maniera più inefficiente per muoversi non perché cioè io mi muovo in bicicletta nella mia città a Brescia perché è la maniera più veloce e non devo cercare parcheggio e posso bere più birra la sera letteralmente per questo non per altri motivi cioè è la cosa meno ideologica della storia le fonti rinnovabili sono quelle che costano di meno sono quelle che fanno più posti di lavoro e sono quelle che eliminano l'inquinamento e le più rapide di essere fatte è letteralmente la maniera migliore per agire ma stiamo facendo questo esercizio di rimozione gigante a livello dovremmo essere qua tutti sul lettino come umanitali di Freud a chiederci come mai stiamo facendo questo esercizio di rimozione gigante e giusto per concludere davvero la narrazione cioè se io voglio se io ti porto in montagna e ti dico guarda certo che suderemo un po' abbiamo uno zaino da portare ma arrivati su guarda che panorama che vediamo se invece tu non sei nato in montagna e ti dico guarda rischi di spaccarti una gamba non so se ce la farai arrivare fino in cima sicuramente soffrirai qual è lo scenario è la stessa identica passeggiata sicuramente è faticoso ma capite che sono due narrazioni completamente diverse mentre attualmente ci stanno dicendo solo guardate che vi starete spaccando una gamba questa cosa fa tutta la differenza del mondo perché tu la convinci la gente a farlo in 0-2 di questo siamo assolutamente convinti se dicessimo la verità ci hanno convinti a stare chiusi in casa per mesi perché uscire rischiavano di morire hanno detto la verità molto semplice molto più semplice del previsto dire la verità trattare la crisi climatica come una crisi e portarci nel mondo migliore che possiamo costruire grazie grazie per questo intervento appassionato come al solito come al solito d'altronde ti conosco bene da questo punto di vista e devo dire che il ruolo che svolgete anche come organizzazione è quello di promuovere questa conoscenza io penso che sia fondamentale appunto che le persone siano informate ma siano informate proprio con questi paragoni come dicevo all'inizio del nostro incontro cioè noi dobbiamo dare degli strumenti di confronto degli esempi di confronto mi è piaciuto molto il tema della passeggiata in montagna ma che non siano basati sul terrore ma che facciano capire che noi dobbiamo abbiamo sempre la possibilità di scegliere e quindi individuare quella che è la scelta migliore avendo anche ben chiaro un concetto di ridurre quello che è il nostro egoismo perché è chiaro che è quello usufruire tutte le risorse se questo poi significa compromettere la vita e il futuro dei miei figli dei miei nipoti devo essere consapevole di queste scelte io penso che una conclusione migliore non la potessimo avere in questo nostro incontro dedicato al futuro che dirvi avremo sicuramente occasione di riprendere questo tema a breve e tra l'altro la parola futuro avete visto è stata declinata in moltissime situazioni all'interno del nostro festival continuiamo a goderci questo festival e arrivederci alla prossima edizione grazie grazie